Tutti con le mani, dobbiamo spaccare l'aniso, tutti con le mani, svegliamo tutti in piedi, dai dai, rivoluzioniamo tutti in piedi, mamma mia che livello, yes, sai. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ma si nativi da lì, insieme a me non c'è sta niente, va, ok la purità, tu fa l'America, tu fa l'America. Grazie, mamma che livello, mamma mia, non ci credo, grazie a tutti.